Buonasera, benvenuti a un appello per il bene comune. Il 31 di gennaio a Milano si è svolta una manifestazione importante, i giorni del volontariato. In questa manifestazione hanno partecipato 200 associazioni, 200 associazioni di volontariato dove uomini, donne, giovani e anziani hanno dimostrato il loro interesse nel confronto del prossimo. La buona politica deve prendersi carico di queste associazioni di volontariato e ci sono due proposte importanti che devono essere affrontate. La prima, fare in modo che i tempi dell'arrivo all'interno delle associazioni del 5 per 1000, versato dai contribuenti, non siano tempi lunghi, non bisogna aspettare degli anni, ma arrivino in pochi mesi direttamente alle associazioni, in modo tale che possano fare una pianificazione finanziaria e possano impegnarsi per svolgere la loro attività con la disponibilità di questi fondi. Secondo fatto importante, a Milano c'è necessità di una casa del volontariato, una casa dove tutte le associazioni possono avere la loro sede a dei prezzi assolutamente economici, direi quasi gratuitamente. La cittadinanza, la popolazione ha bisogno delle associazioni di volontariato. È veramente una cosa importante vedere come queste donne, questi uomini mettono a disponibilità il loro tempo per il prossimo. La buona politica deve rispondere dando a disponibilità di una casa del volontariato, dove loro possono svolgere la loro attività senza un impegno economico, praticamente, gratuitamente, diciamolo pure. Questa è la buona politica e questo è quello che ci chiedono queste associazioni. Le vostre proposte sono le mie proposte. Mandatemi un'email al mio sito, è ericomarcora.com. Troverete anche il mio indirizzo di email e lì potrete portare le vostre istanze, facendo in modo che la buona politica sia vicina ai cittadini e la buona politica porti le buone idee dei cittadini sui tavoli istituzionali, in provincia e un domani forse in regione. Insieme possiamo. Io ci credo.